Ieri sera sul palco allestito in piazza Santo Ronzo, nel cuore della città e in occasione della festa patronale, si è svolta la presentazione ai tifosi della truppa di Mister Lerda, che domenica prossima sarà chiamata a scendere in campo per la prima gara ufficiale del campionato 2014-2015. La serata è stata presentata da Silvia Famularo e dallo speaker del Via del Mare, Pier Giorgio Mazzotta. Sul palco sono stati chiamati il presidente Savino Tesoro, la signora Maria Tesoro, la vicepresidente Giulia Tesoro, Mister Lerda e il suo staff, Capitan Miccoli e tutti gli altri componenti della rosa giallorossa. Una bella festa con tante famiglie e bambini che hanno applaudito a lungo i loro beniamini. Ovazioni per tutti, da Capitan Miccoli a Lopez, Papini, Salvi e al neoacquisto Moschardelli, che non ha perso l'occasione di fare un selfie con la folla alle spalle. A un certo punto è partito anche il classico coro, Cinuzzumpa e Nubarese, con Savino Tesoro che non si sottrae e inizia a saltellare. Nel corso della serata sono state anche presentate le nuove maglie da gioco, firmate dall'Egea. Dalla prima gara casalinga contro il Barletta, Capitan Miccoli e compagni saranno accompagnati dal nuovo inno ufficiale, cantato dai Sud Sound System, dal titolo Lucore Pettì e Scalpita, che traghetterà gli uomini di Mister Lerda in questa nuova avventura. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.